La seconda edizione del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata dai tradimenti, prima Soleil nei confronti di Luca Onestini, e poi soprattutto, Cecilia Rodriguez nei confronti dell'ex tronista Francesco Monte, famosissimi giorni di confusione della bella Argentina, nei quali si è trovata combattere con la forte attrazione fisica e mentale che Ignazio le suscitava, e la sua relazione stabile di quattro anni al di fuori della casa. I suoi dubbi si sono propagati anche al di fuori della casa, coinvolgendo anche Monte che per capire cosa le stesse succedendo, le ha addirittura mandato un aereo. Durante la puntata di questa sera, Cecilia, eliminata dal programma alla scorsa puntata, è rientrata per fare una sorpresa ad Ignazio ed è uscita, indovinate un po', proprio dall'armadio della discordia. Le sue intenzioni, sicuramente scherzose, hanno però messo ancora del pepe in questa storia. Ma ecco che una volta uscito dal programma anche Ignazio, è proprio lui a confessare finalmente la verità. Alle pressioni di Ilari e di Alfonso su cosa fosse successo in quell'armadio, causa di tante malelingue, Ignazio ha detto non abbiamo fatto nulla, stavamo pensando a quello ma non l'abbiamo fatto.